Dobbiamo fare oggi un'assemblea qui con diversi rappresentanti delle istituzioni, ma anche tanti cittadini, assemblea, per firmare una posizione per la valorizzazione del Parco della Dolorata, o meglio Parco Icori. In cosa consiste? Abbiamo deciso di attenzionare alla questione del Parco Icori. Sappiamo tutti che è una zona dal punto di vista ambientale particolarmente pregiata, al suo interno contiene anche delle strutture che sono particolarmente interessanti, come un teatro, un cinema all'aperto, una pista di pattinaggio, però è una zona completamente abbandonata da decenni, che è stata trascurata, non è mai stata valorizzata e non ha mai rappresentato un momento importante per la città. Quindi noi abbiamo promosso questa petizione con l'idea di, quantomeno, discuderne in città, ma dopodiché anche ipotizzando una possibile soluzione per quanto riguarda la gestione e la cura di questa zona. Noi pensiamo che sarebbe estremamente utile e importante, visto che il Comune non ha i mezzi, la possibilità tecnica e finanziaria di intervenire per risolvere la questione della gestione di Parco Icori, possa cedere la mano e passi la gestione della zona boschiva alla forestale, che peraltro già sta curando tutta la zona verde e boschiva attorno alla città, e per quanto riguarda la gestione delle strutture che sono all'interno del Parco, l'unica struttura che ci sembra è in condizione di poterla gestire con un minimo di autonomia finanziaria è il Parco archeologico. Quindi attenzioniamo questo problema, discutiamone, cerchiamo una soluzione e restituiamo alla città una zona dal punto di vista ambientale, dal punto di vista delle strutture estremamente importante, che va valorizzata anche in vista delle iniziative che ci saranno per Agrigento o Capitale della Cultura 2025. Sì, è molto sentito, devo dire che la petizione è stata lanciata ieri pomeriggio e oggi siamo già a 200 firme online, quindi segno che c'è un interesse in città, che bisogna canalizzare, bisogna portare all'interno delle istituzioni individuando soluzioni che siano praticabili e quindi non proposte vaghe.